Perché me ne è fatto? Perché me ne è fatto? Vediamo, vediamo. Ci sono motivi per cui me ne è fatto? E come se ci sono? Innanzitutto la gente come mi ha trattato? Certo all'inizio, appena sono entrato? È stupita, ma non ha la faccia dell'altro Papa e non è buono come altro Papa? E questo non scia, quello scia fa. E questo non fa niente, quello raccontava Barzalette, quello andava in giro, quello si divertiva. Che devo fare? Raccontare Barzalette? Volete che faccia un pochino di avan spettacolo? Io non so raccontare Barzalette e non so sciare, mi devo rompere gamba? Così siete più contenti, così venite la domenica all'Angelus a mettere firma su Gesso? No? Basta? Basta? Ora basta, mi sono rotto palle di questo atteggiamento e anche giornalisti italiani stupidi, deficienti, che usano slogan criticoli, come è sceso da croce, ha mollato a croce, io è sceso da croce, ma siete matti? Io non sono mai neanche salito su scala e adesso scendo da croce? E basta? E basta?